pronti per questo viaggio su strait lights ragazzi vediamo un po ci siamo come se ci stiamo svegliando riccardone buonasera riccardone siamo nell'acqua grazie mille wind buonasera che fai di bello che fai è una luce c'è una luce gialla e una porta ovviamente muoviti vs avanti e dietro ovviamente ma se sta allontanato la luce ah siamo noi la luce o mio dio molto sfogato molto sfogato devo andare verso la porta ovviamente per guardarti intorno sì sì quello che stiamo facendo ma dove stiamo cos'è cos'è entriamo in questa porta oh adesso ok eccoci mamma mia siamo veramente molto frastornati ovviamente appena svegliati ma da cosa siamo appena svegliati ok adesso ci avete un po meglio ma che è sta roba dove siamo ragazzi le scalette mamma mau mamma mau allora questo ovviamente è una fabbrica o una cosa del genere abbastanza abbandonata o distrutta ci sono voraggini cioè è abbastanza devastato un po' tutto qua abbiamo capito chi siamo noi vediamo un po' vediamo un po' saliamo continuiamo ad andare avanti sta piovendo è a noi che ci fa niente la pioggia o qualcosa mamma mia i tuoni le tempeste addirittura ecco qua ecco qua che cadiamo uè Mircone buon pomeriggio anche a te c'è un bordello come se fosse l'apocalisse questa piccola luce in difesa che ovviamente va corre via ma da cosa? scatta shift ok mamma mia è degrado c'è sta tuoni fulmini devastazione corri 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 mamma mia stava vicinissimo sto tuono eh povera piccola luce ragazzi povera piccola luce poi facciamo anche l'impronte che carine salta bar spaziale ok ok no 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 ok vabbè wow e sti cristalli come se hanno dell'energia poi penso un po' abbassassi come si fa? ce lo diranno? sarà control? si carino mamma mia raga che spettacolo veramente wow facciamo un po' di fotine facciamo un po' di fotine ragazzi è veramente wow cioè ci sono questi cristalli che hanno questo effetto che è fantastico come se fossero dell'energia delle stelle dentro questi cristalli andiamo andiamo io sono curioso sono curioso mamma mia stiamo diventando un tutt'uno oh mio dio sono diventati più grandi ma un'ombra attenzione e adesso e adesso quest'ombra da cosa viene devo capire quello là mamma mia ci ha tolto l'energia la luce ci ha tolto no siamo siamo stati contagiati dall'ombra che infamità che infamità che infame ma 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 os carigano Grazie a tutti.